Ha già iniziato a lavorare in teatro per i primi fatti. Ula Kajdereva viene dalla Bielorussia e con lei è una nuente nella mia classe perché è arrivata da non molto tempo, era allieva con la mia cara collega il mio amico padre Diana Cicconia, è andata in pensione, è molto migliore della mia classe e troppo che con lei stiamo facendo un ottimo lavoro che abbiamo fatto quindi sono molto contenta e di questo è un buono scolto. Grazie. 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 Grazie.